Comobbettido Tiene tutt'ora Skipper! Tiene davvero Clicker! Ho trovato qualcosa! Cosa?! Che cosa?! Ehi! La punta di una lancia! È la lama della tua paletta Ralf, si è staccata dal mare E io l'ho trovata! Il mio sanzinho è una campilla della mia scuola Cosa?! C'è la ricca di! Tocca tocca qui, tocca tocca là Tocca tocca qui, tocca tocca là Grazie a tutti. Grazie a tutti.